Benvenuto o benvenuta ad una nuova lezione di MasterExcel.it Oggi vediamo la funzione assoluto, o meglio, quella per calcolare i valori assoluti Allora, qui abbiamo due valori, valore 1 e valore 2, e dobbiamo calcolare la loro differenza Potremmo fare una cosa del genere, doppio clic, però ci dà un sacco di numeri negativi Noi vogliamo questi numeri, ovviamente, positivi perché a noi interessa solo la differenza, solo il loro valore assoluto Come fare? Scriviamo AS, che in inglese è una parolaccia Chiudiamo la nostra parentesi, invio, doppio clic Fatto, facilissima da usare di fatto Prende tutto quello che c'è all'interno della parentesi Può essere un numero o anche un calcolo, come in questo caso E ne restituisce il suo valore assoluto Abbiamo finito con il valore assoluto, però ti faccio notare che ci sono delle cose chiamate riferimenti assoluti E sono tutta un'altra cosa, argomento di un altro video Ciao